ciao oggi vediamo tre esercizi per migliorare le punte per i primi due esercizi andiamo a lavorare in relevé utilizzando l'appoggio del muro oppure di una sedia per il terzo esercizio invece ci servirà un elastico e un tappetino ricordati che come ogni cosa la costanza è quella che ripaga